bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video si mostri verso il mio cospetto ma smette di dire le prate signori io farei la classica maria fa le gnameria e gli altri vanno un po più di là chiamola sky quindi contesto danno pizza non trollare santo dio allora io sai per me non sono stato io stai dicendo mi dica che mi dica che sei messo dai mi dica brasil no però non può mettere sta roba ma certo che posso giocare con l'ingando che c'è da picco curiamo a fare tanto chi è che ti dice ma mi pare che uno mette un asile e metterebbe brasile me par da ver ma non va di era il fai scintill brazil andiamo scusate come si strisce in terra fai scintill si erano non la conosce quella del brasil mi scusi la donna con le strisce il peso anche per favore veramente un ciuccione mi scusi ma lei crede a tutto quello che mi viene detto no signori avete 300 bits a testa per la vittoria vediamo di fare i seri per l'amor di dio signor io vi dico un'altra cosa sono raggiunti altri mille bits a testa e altri e altri che hanno abito a testa d'aspro signore da fare i seri mi sa chiedono quanto pingo 240 perché ragazzi non si può non fare in brasile se ci snipe hanno abbiamo 2000 abit è meglio ad averla fatto in brasile fidata io esigo quei bizzi quindi la vincere la vinciamo vi do un altro consiglio fermate il metallo ci serve alla fine per me c'erano farlo tutto sto pericolo di morte al 70 per cento forse 60 anni 50 se non mi insegue sono facile scende tranquillamente al 40 isi non mi serve più posta io un god loot signori no ragazzi basta 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 partiamo ci siamo molto sparici rifiamo il game andiamo 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 ci rifiamo il game il problema è che dobbiamo spostarci di brutto allora allora c'era gente qui a sinistra attenzione aspetta io pingo verso il lago partiamo da lì ok lo scopriamo fa tre secondi la sky parte esattamente qui allora se la facciamo in obliquo parte qui è il problema di non essere in singolo è che c'è un botto di gente ovunque ok prima ho fatto questa cosa ed ha funzionato da noi però subito paura è pericolosissima no non è pericolosissima assolutamente giustissima più ne faccio così in verticale meglio è fidati l'ho fatto anche prima ha funzionato guardi la scala non guardi materiali come nel video è veloce veloce però calmo 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 è la prima è la prima pizza posso smizzare recuperatemi la safe e poi smizzate voi a togliere uno io i miei non c'è più fretta non c'è più fretta pizza fermo 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 dai siamo in brasilio non capiscono ok se viene bene questo taglio e poi si nasconde nella safe ci siamo quanto mi manca per il per il ping più o meno mancano 25 secondi quando ne mancano 10 giro ancora un attimo ancora un attimo giro di quanti mazza perché ci pensi ma sta esatto tranquillo ancora 40 build siamo altissimi ma ragazzi 16 persone sono troppe si ma è fighissimo averla fatta così volete un testa scusi no grazie ma io non io ora iscriviti che cosa ma è scemo ma che c***o bello ma cos'è che lui danno vende salutato vizi danni pizze abbiamo 2000 bits lo so che lei è farcito come una bestia ma cristo rispetti anche noi porca putta e datemi mazzo aspetta un attimo arriva anima fermi 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 faccio vedere se serve la parola hoteli ma c'è bisogno no 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 venga non posso distribuire basta basta non mi servono più non mi servono più non mi servono più si deve farlo non caschi fatemi ragionare un secondo cerchiamo di arrivare qui se lancia una veglia quello la mi sente? si 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 no sparare non sparare quanto manca? perché è cascato? sono un c***o ma che va a cascare su? eh non lo so finita la finita la finita la finita la siete messi bene sono caduto perché il lag lui mette giù ma in realtà non mette giù niente raga la vincete voi la vincete la vincete dai è difficilissimo con il lag così in tre allora adesso non usate il metallo ancora per due safe quando poi la safe sarà talmente piccola basta si overbuilda se no morite tutto lancio tutto lancio tutto tieni ok 800 di legno no non mi serve state al bordo non stiamo in donna e vai un po' e l'avanti si vai un po' e l'avanti come? devi fare l'ultimo gomito adesso ti puoi fermare anche un pelo prima ti puoi fermare qua e festo e poi entri basta basta gomiti basta basta bravo ok da adesso in teore non dovreste farne più fidati questo gomito ti può salvare la vita mi stanno sfondando le mani? stia calmo stia calmo ce la fa ce la fa ce la fa hai pesci puzzolenti pizza? si avete vinto? cioè se non vi sgamano eh ma ne ho due eh attenzione continua dritto per dritto come è buona questa si si è molto buona minchia F vai metallo fermo fermo metallo F metallo 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 ne hai troppo per non sprecarlo ok non sparate voi non fate nulla ce l'hai materiale per buildare che se non c'è metallo è uguale tieni stai cento di legno stai cento di metallo prendi un po' di metallo lo sta prendendo? eh ok metate il mio metallo hai preso ok fama come un drago un ben di chi ti ho nel caso non ti serve più oramai come fai? ma non è vero basta che prende un po' di roma se gioca di roma si io vario un po' il culo e pizza ok certo ma stai bombardando vai 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 ora capitate capitate ho per build ho per build buona buona stop 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 mi hanno bombardato bello bello ah siamo 2v2 siamo allora riesci a vedere bene dove stanno loro? eh sì ma è troppo grande aspetta ancora aspetta ancora aspetta ancora poi per me dobbiamo intarli te lo giuro f e ittiamoli cioè cerchiamo ma cosa stanno facendo? calmi 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 non c'è fretta lo sanno che siamo qua certo che lo sanno c'è un attaccato le diamine bello bello what the fuck poi buttalo giù le stinchi le stinchi le stinchi prima che lo resta ho tirata 870 come hai fatto a fare un 170 da lì cambiamo non ho colpimento dai raga dai raga è fatta è fatta è fatta raga bello vedi bianco oh my god vai 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 mi mancano 20 di vita quello lì non ho colpimenti non bruciatevi perché ne vete no distruggono continuare lui bravo f bravo f mega overbill fa niente se ci vuole 20 white morto oh my god non ho più colpimenti non ho più colpimenti non lo faranno sempre più fatica ci sono restati così tante volte dovremmo vincere di save eh infatti ultimedi è rimasto non li ho non li ho ne ho otto ascolta io ho l'ultimo mi sa che mi devo lanciare aspetta no non ti faccio un c***o no no pizze aiuta a buildare aiuta a buildare hanno fatto troppare hanno troppato giù veramente? si te lo giuro no dobbiamo provare a pomparli cado in acqua cado in acqua provaci provaci è troppo poco la safe muori in safe porta uno l'altra l'altra sono in mirina oh my god let's go let's go